Il comune di Vasto deve al Civeta il consorzio intercomunale che si occupa dei rifiuti della città circa 2 milioni e mezzo di euro. E questo è un dato inconfutabile. Ma siamo certi però che l'impianto di Vallecena svolga con efficacia ed economicità, come vuole la legge, la funzione di differenziare i rifiuti che provengono dall'utenza vastese? L'interrogativo se lo pongono preoccupati i consiglieri comunali di Fli, Nicola Delprete e Davide D'Alessandro. Perché arriviamo ad ipotizzare che qualcosa ci sfugge nel meccanismo che regola il rapporto convenzionale tra il Civeta, la Pulcra e il comune di Vasto? Si domandano i due consiglieri che annunciano una interpellanza al sindaco, proprio per sgomberare il campo da dubbi. Quando l'amministrazione comunale La Penna annunciò ai cittadini che sarebbe stata avviata la raccolta differenziata per giungere nel giro di un paio d'anni alla riduzione delle tasse sui rifiuti, ricordano Delprete D'Alessandro, ai cittadini fu chiesto il sacrificio di pagare di più, proprio per consentire alla Pulcra di abbiare lo start-up per la differenziata che ormai copre quasi tutto il territorio comunale. Sono trascorsi circa cinque anni da allora, ma nel bilancio del comune vediamo che la somma destinata al Civeta, al contrario del previsto, è aumentata. Vasto paga oltre due milioni di euro per lo smaltimento dei suoi rifiuti. Nel 2011 addirittura, l'amministrazione comunale dovette dismettere l'immobile comunale che ospita i giudici di pace per pagare il Civeta. Quest'anno cosa dovrebbe vendere? Eppure facciamola differenziata con una percentuale di circa il 45%. Ma i benefici di questi sacrifici chiesti ai cittadini, con la prospettiva di una diminuzione del bazello sui rifiuti, non si vedono affatto. Anzi, la spesa tra Civeta e Pulcra aumenta di anno in anno e siccome la copertura di questi servizi è a totale carico dei cittadini, crescono anche le imposte che il comune chiede ai vastesi. Alla luce di queste semplici considerazioni, denunciano del prete D'Alessandro, riteniamo che ci sia qualche meccanismo che non funzioni nella catena. Grazie.